Fratelli e sorelle, oggi sono voluto venire a Prato a conoscere un amico di Toscana Maremma Maiala che ci ha portato l'acqua sacra di Baccarello. E prima di tutto voglio lasciare la parola a Toscana Maremma Maiala che oggi mi ha portato a mangiare il sugo sulla pecora o la pecora senza lasciare come dite Toscana la pecora. Ma adesso facciamo parlare questo nostro amico che è venuto qui per parlarle. La parola la facciamo a lui perché questo è il popolo di Toscana Maremma Maiala, è il popolo dei fedeli che viene a cliccare mi piace su Facebook. Ma adesso andiamo a lasciare messaggio di pace, di gioia dagli uri che ci dirà cosa fare. Viva la tripa, il lampredotto e viola alle alle. Oh, finalmente tocca a me. Allora, ora posso ragionare. Voglio dire una ossa. Intanto voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti a vederci e voglio ricordare che a Sentrembe si riparte. Poblio dei nostri, allora non si mette cinque euro a cranio e si va tutti ora a Baugiano a fare una sbracciata. Si mette cinque euro ragazzi, che vuole? La spesa la fò io, se vi fidate bene, se no andate a prendervi uno nel culo. E se hai preso una trentina di galletti, le sarsicce, la rosticiana o a un caso si può andare a vallupaglia. Se non vi calma si va a vallupaglia, bene lo dai chiuso. C'è l'acqua fresca anche. Ora vi voglio cantare una canzone. Bucaioli c'è le paste se posso, posso cantarla? Bucaioli c'è le paste tutti insieme. Bucaioli le son fresche. Bucaioli c'è le paste e le maiala alle finestre. Bucaioli ce ne tanti, ma le paste le son fine, via nanni. E si ha, si ha fatto ad adesinare i corostini. Buonasera, vai. Buonasera, vai. Buonasera. Grazie.